Ciao, siamo a Pergine. Siamo i più belli uomini di Pergine. Fantastico. Boris Bacal qui accanto a me, ho detto bene la pronuncia? Sì. Boris, tu debuti martedì col nuovo spettacolo Male Female, coproduzione, lo dico perché vanno detti, Trento spettacoli, Pergine spettacolo aperto. Noi abbiamo visto una prova qui fuori, qui in questa palestra dove tu stai provando con gli attori, e volevo parlare un po' di te, ma non troppo, di cosa vedranno gli spettatori di Pergine e chissà poi quali altri. So che tutto questo lavoro già tu l'avevi impostato a Zagabria. Sì, diciamo che faceva parte di una trilogia, trilogia in quale io mi sono chiesto insieme con gli altri collaboratori, prima di tutto collaboratori con i quali lavoro per ultimi 30 anni, la questione è cos'è la comunità oggi. E come comunità parte da un lato politico, da un lato della fiducia e dall'altro anche quelle dinamiche che ci sono tra noi. E Male Female è una partenza, per cui puoi essere male, amico, amico, o padre figlio, o figlia figlia, o figlio figlio. Io capisci, allora quando dico Male Male non è la divisione netta del genere, del sesso, delle cose, ma tutte queste dinamiche che possono portare a un insieme o a una delusione. E riflettere appunto su queste comunità e comunità. E qui a Pergine tu hai lavorato con altri attori, ovviamente, italiani. E' stata ancora in fase, diciamo, creativa? Siamo appena cominciati, diciamo, il percorso vero, perché finora abbiamo trovato il metodo, abbiamo trovato la modalità, diciamo, alcune attrezzature dentro la drammaturgia, le motivazioni e adesso stiamo provando in tutti i giorni, avremo un pubblico, di fare un test, speriamo, come quello abbiamo fatto noi, e proprio di dopo anche parlare con loro di una evoluzione, se si hanno sentito qualcosa, se sono stati toccati, se no, cosa manca, eccetera, eccetera, e tutto questo cresce, cresce fino a 12, che penso è. Allora io adesso devo andare all'inaugurazione del festival, però se voi stasera ci facciamo una chiacchierata sullo spettacolo. Sì, va bene. E' un attore barretto lì in piazza. Grazie, Boris. Ciao, ciao.